Alla console! Tony H, mixa con testine, ortofon con core DJ e mixer Gemini CDM 1000. Sta cominciando un bellissimo programma! Si chiama Alla console! E alla console c'è! DJ Tony H! Alla console! DJ Tony H! Alla console! DJ Tony H! Ah! 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 Radio DJ DJ! DJ DJ! Crew DJ! Crew DJ! Crew DJ DJ! Grazie a tutti. 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 Donnie, help me. No, 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 no. Donnie, hey, how you doing? No, 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 no. Solo Donnie Hagar. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . . a tutti. a tutti. che mi piace. tutti. a tutti. . 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 Grazie a tutti. 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 essere al tuo posto, guidare la console, magari di nascosto. Non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto. Non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto. Non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto. 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 Non è mai l'aiuto. Non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto. Non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto. Non è mai l'aiuto. Non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto, non è mai l'aiuto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti